Una passeggiata pericolosa sul tetto dell'ex-elba ad una decina di metri di altezza. Protagonisti della bravata due ragazzi che sono stati notati da alcuni passanti mentre si muovevano sopra la copertura dell'edificio di Viale Vicenza, area abbandonata da anni e in stato di degrado. La segnalazione è giunta al 113. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato di Bassano ma nel frattempo i giovani si erano allontanati. Dietro l'azzardo forse la voglia di mettere in rete una sfida rischiosa magari per il solo gusto di ottenere qualche like sui social.